Jerome Powell, governatore della Federal Reserve, ha annunciato l'aumento dei tassi di interesse dello 0,25%, portandoli così in un range compreso tra l'1,75% e il 2%. La notizia era ampiamente prevista, data la forza dell'economia americana, anche se alcuni analisti paventano il rischio che le attuali politiche monetarie restrittive porteranno alla lunga gli Stati Uniti in recessione. Secondo altri invece questa decisione potrebbe sì portare alla recessione, ma in Europa. Infatti ormai lo spread tra i tassi americani ed europei è molto ampio, avendo raggiunto il 2%. Ciò non potrà che obbligare la Banca Centrale Europea a studiare una strategia di uscita dal quantitative easing, che tiene in vita molti pezzi del sistema bancario europeo. Che la preoccupazione serpeggi nei piani alti dell'attore di Francoforte può essere dedotto anche da un'altra notizia passata praticamente sotto traccia, sebbene data dall'agenzia Bloomberg. La Banca Centrale Europea ha chiesto infatti un'analisi e una revisione delle valutazioni degli asset di Deutsche Bank, Societe Generale e BNP Paribas. A dimostrazione del fatto che non vi è a Francoforte la certezza che i bilanci dei maggiori colossi bancari europei siano corretti. E di conseguenza non vi è la certezza che possono resistere alla futura chiusura del quantitative easing e ad un possibile aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Per dirla con Leonardo Sciascia, tutti i nodi vengono al pettine, quando c'è il pettine. E purtroppo per l'Europa, il pettine della politica monetaria è in mano a Washington. Macron mi ha detto che le frasi rivolte all'Italia non sono attribuibili a lui, ha confidato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in mattinata. Alla domanda se dopo la telefonata con Macron il caso Italia-Francia, nato dalle dichiarazioni francesi sulla vicenda Aquarius, fosse da considerare definitivamente chiuso, il presidente del Consiglio italiano ha risposto direi assolutamente sì. Adesso però, ha proseguito Conte, bisogna lavorare alla riforma del regolamento di Dublino. Insieme. Nel frattempo la Marina Americana smentisce di aver abbandonato in mare i corpi di 12 migranti morti in un naufragio avvenuto due giorni fa a largo della Libia, precisando in una nota di avere inizialmente visto circa 12 corpi in acqua che sembravano non rispondere, e nelle successive ricerche non sono state trovate persone sul posto. Se necessario, precisa la Marina statunitense nel comunicato, le navi sono in grado di conservare i resti nel deposito refrigerato. Nella nota si ricorda che sono 40 le persone tratte in salvo e portate subito a bordo della Trenton, dove hanno ricevuto cibo, acqua, vestiario e assistenza medica. I media italiani avevano invece subito rimbalzato la notizia dell'abbandono in mare di 12 migranti morti. Notizia proveniente dall'ONG Sea-Watch senza che sia stata verificata. Come del resto dai soliti giornalai non viene verificato il business degli sbarchi e dell'accoglienza, non nascosto nemmeno dall'abbonino. Bisogna che ci diciamo che bisogna tentare di cambiare, ma il fatto che nel 2014 e 2016 abbiamo chiesto che il coordinatore fosse a Roma la guardia costiera e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia l'abbiamo chiesto noi. L'accordo l'abbiamo fatto noi, violando peraltro Dublino, ma quello sarà un altro discorso. La 66esima riunione del club Bildenberg, appena conclusa a Torino, è stata pensata di gran lunga prima delle elezioni del 4 di marzo. Ma che si sia pensato l'Italia nel ristretto numero di persone che progettano questi incontri indica che avevano percepito l'importanza degli eventi che si stavano preparando. Altra premonizione dunque è nel primo punto l'ordine del giorno, populismo in Europa. Una classe dirigente tutta intera è stata sbaragliata dall'ondata populista. Il campanello d'allarme sta suonando fortissimo. È evidente che i temi scelti sono tutti quelli che un qualunque governo lungimirante, degno di questo nome, dovrebbe prendere in considerazione. C'è come si è visto la stretta attualità nei 12 punti, populismo in Europa, la sfida della disuguaglianza, il futuro del lavoro, l'elezione di mid-term negli Stati Uniti, la leadership americana sul mondo, l'Arabia Saudita e l'Iran. Ma ci sono anche le grandi questioni del lungo che diventa sempre più corto, periodo. L'intelligenza artificiale, il quantum computing, il mondo del post-verità. Il problema vero è che non sappiamo chi ha introdotto queste discussioni, cosa si è detto, chi ne ha parlato. Ma non c'è dubbio che si sia discusso tra persone che sanno quello che sta succedendo e che sono in grado di prevedere non poco di quello che succederà. E possono influire sul corso degli eventi futuri. Quello che colpisce è che nessun russo sia stato invitato. Neanche un oligarcuccio qualsiasi. Ovviamente Putin, al contrario, saprà tutto nei minimi dettagli. Le sue recche sono state più attente a quanto si è detto Torino che non agli squitti del G7 canadese. L'altra assenza totale è stata quella cinese, che sommata a quella russa, ci dice che questo club, nonostante la sua indubbia competenza, ha qualche problema di orientamento per quanto concerne il mondo contemporaneo nel suo complesso. C'è sicuramente sia in Russia che in Cina qualcuno pronto a genuflettersi di fronte alla potenza dell'impero. Ma cattivo impero è quello che chiude gli occhi. Dal 1993 ad oggi l'Antartide ha perso circa 3.000 miliardi di tonnellate di ghiaccio, perdita triplicata negli ultimi cinque anni, un'accelerazione senza precedenti. Due le zone maggiormente colpite, la penisola antartica e la parte occidentale della calotta glaciale. Il processo di scioglimento in queste aree è preoccupante, perché qui gli strati di ghiaccio mantengono stabili i ghiacciai della parte continentale, evitando che scivolino verso il mare. A rivelarlo su Nature uno studio di 84 scienziati provenienti da tutto il mondo, che avverte sul rischio di innalzamento del livello del mare di oltre un metro entro il 2070, con conseguenze catastrofiche per le città di tutto il mondo. Al destino dell'Antartide è legato il nostro. Ogni variazione su questo continente influenza l'intero pianeta e rivela la pericolosità dei cambiamenti climatici, che sempre più irrimediabilmente intaccano gli ecosistemi. Mentre gli Stati Uniti attendono inerti la completa denuclearizzazione della Corea del Nord, Mosca e Pechino propongono passi reciproci sotto forma di allentamento delle sanzioni, invitando il Consiglio di Sicurezza dell'ONU a sostenere iniziative diplomatiche idonee. Washington invece continua per la sua strada. Mike Pompeo è ostinato. Tutte le misure resteranno in vigore fino alla completa, verificabile e irreversibile denuclearizzazione della penisola coreana. Circa due anni e mezzo, ha dichiarato da Seoul. A Pyongyang resta la promessa di Donald Trump di interrompere le manovre ai confini con la Corea del Nord. O forse neanche quella, perché il Pentagono, stando a quanto scrive la Reuters, farà in modo che le truppe americane in Corea del Sud siano sempre pronte e ben addestrate, sospendendo eventualmente soltanto le esercitazioni su vasta scala. L'attacco alla città portuale iemenita di Al-Udeida potrebbe trasformarsi in una catastrofe per tutto lo Yemen. I combattimenti dell'operazione Vittoria Dorata, lanciata mercoledì 13 giugno dalla coalizione araba Guida Saudita, possono ostacolare le forniture di medicinali e di altri beni di prima necessità, mettendo a rischio la vita degli abitanti del paese. Un colpo durissimo sarà inflitto anche alle prospettive di una risoluzione politica del conflitto. Se ne discuterà oggi, giovedì 14 giugno, alla riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, convocata su richiesta del Regno Unito. Nello Yemen, intanto, si è concluso con un fallimento il tentativo di sbarco condotto ieri dalla coalizione, durante il quale gli Emirati Arabi Uniti hanno perso, colpita da due missili nemici, una nave da guerra anfibia. L'aeroporto di Al-Udeida resta sotto il controllo degli Houthi, che nei combattimenti iniziati ieri avrebbero perso due importanti leader, il generale di brigata Ibrahim Mohamed Al-Mutawakl e il colonnello Ali Hussein Al-Marani. Il gruppo assalto anfibio dei marin americani, guidato dalla portaere Ivo Gima, si trova a largo di Al-Udeida, pronto all'assalto. Scoppia il caso Macedonia. Il presidente del paese balcanico, Gheorghe Ivanov, si è rifiutato di firmare l'accordo con la Grecia per la ridenominazione del paese, definendolo indegno e anticostituzionale. La ridenominazione in Macedonia del Nord era stata concordata martedì ai colloqui tra Zoran Zayev e il suo omologo greco Alexis Tsipras, e subito accolta con favore dalla Nato e da Bruxelles. «Sbagliato speculare sugli obiettivi strategici del nostro paese», ha dichiarato Ivanov, aggiungendo che non cederà né alle pressioni né ai ricatti. Atene intanto continua ad accusare la Repubblica di aver usurpato il nome di una storica regione greca, mentre nella capitale macedone scopie, sono già in corso proteste popolari contro l'accordo.